Salve a tutti ragazzi, io sono Elfio e benvenuti in questo nuovo video su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Volete ottenere anche voi questa fulgida armatura e avere l'aspetto di un virtuoso paladino? Vi faccio vedere come si fa. Iniziamo! Eccoci qui ragazzi, allora prima di entrare nel vivo del video di oggi vi faccio al volo le solite raccomandazioni, ovvero iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, lasciatevi un commento e un like a questo video se vi è stato utile. E non dimenticate anche di dare uno sguardo ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale e diventare così a tutti gli effetti un lupetto e entrare a far parte del nostro branco. Ed in ultimo ragazzi, seguite la mia serie in live di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Salve imprevisti, sono live due volte a settimana il mercoledì e la domenica sempre alle 17. La live più certa è quella della domenica. Il mercoledì è un po' ballerino. Ma comunque ragazzi, questa bellissima armatura, l'armatura Ilia, con i suoi pezzi armatura, elmo e gambali Ilia, si può ottenere in un punto che potete visitare già nei primi momenti di gioco. Dovete andare un po' avanti con la storia. Esattamente non so fino a che punto, ma dopo aver completato credo la parte dei primi quattro villaggi, cioè quello Zora, quello Goron, quello Gerudo e quello Deirito, mi basta venire qui al forte di guardia e riparlare con questo personaggio che è intento inizialmente a pulire qua davanti, fino al punto che non sente una voce provenire da questo buco che ha trovato facendo le sue pulizie. Entrate all'interno del buco, una delle cose che troverete subito è proprio la statua che parla, che lei sente nella sua chiacchierata, che è questa statua demoniaca che vi permetterà di scambiare portacuori e portavigore, a vostro piacimento, se magari non vi piace come avete assortito cuori e vigore. Ed oltre a questo potete poi varcare tutte queste soglie che sono chiuse da rocce, quindi vi consiglio di armarvi di bombe a sufficienza oppure di armi che riescono a scalfire la roccia e potete addentrarvi in questi cunicoli. Ora, all'interno di questi cunicoli potrete raggiungere dei punti particolari che vi farò localizzare nella mappa in modo tale che potrete forse più facilmente di me raggiungerli perché sono abbastanza nascosti. In questi punti particolari della mappa troverete delle strane strutture che vi faranno saltare all'occhio che in quel punto preciso c'è qualcosa da trovare. Primo punto, ragazzi, è questo qua. Avete visto? L'ho raggiunto anche quasi subito. Cioè, non l'avete visto, ma ve lo posso dire io. Fate attenzione a questi cosi. Si possono picchiare con delle armi che spaccano le rocce, quindi le avrete già a disposizione. La struttura di cui stavo parlando è questa specie di parte di castello e infatti questo dovrebbe essere le fondamenta del castello in qualche modo. All'interno di questa prima struttura potete trovare qui, nell'angolo, dietro a questo coso schifoso che adesso mi mangia e mi ammazza il primo forziere. I forzieri generalmente sono contrassegnati da queste due torce, ragazzi. Quindi, fateli guidare dal look dell'ambiente circostante. Questo è il primo punto e si trova precisamente qui nella mappa. Quindi, tenetelo come punto di riferimento perché siete sotto terra, ovviamente. Quindi, non è che siete in superficie e andando in superficie potete raggiungere il punto stabilito, ma se vi orientate più o meno sopra rispetto al sotto dovreste riuscire ad arrivarci abbastanza facilmente. Proseguendo dei funicoli troverete abbastanza linearmente, procedendo in maniera linearia, potete trovare anche il secondo dei pezzi dell'armatura. E adesso vi faccio vedere il punto preciso. Basta andare sempre dritto e arriverete in questa zona un po' sommersa da questa parte dove c'è tanta acqua e c'è anche tanto mostro da ammazzare. Oh, mamma mia. Adesso mi tocca ammazzarlo, non ditevelo. Sì, mi tocca ammazzarlo. Ok, è stato anche abbastanza facile. Voi arrivateci in un momento della vostra crescita all'interno del gioco sufficientemente abili da poterlo sconfiggere alla stessa maniera. Il prossimo pezzo dell'armatura si trova sempre, come vi ho spiegato prima, in questa specie di struttura tipo castello, quindi che contraddistingue le fondamenta del castello, perché è proprio all'interno del castello che trovate questa armatura ilia fondamentalmente. Ora, questo punicolo qua è difficile da aprire, perché ci sono quelle rocce nere davanti, vedete che sono scure, e sono abbastanza difficili da distruggere. Con le bombe ci riuscite, ma insistete ragazzi, perché io ci ho messo un po' al punto di pensare che stessi sbagliando strada. Comunque, una volta entrati, alla stessa maniera, così come abbiamo fatto anche prima, attenzione a non farti ammazzare. Ok, questo maledetto mi aveva rubato l'arco, io non faccio, non permetto a nessuno di rubarmi l'arco. Allora, l'altro forziere dovrebbe essere in questa stanza qua o nell'altra, credo sempre protetto da questo moto, quindi dovrebbe essere qui, da questa parte, se non sbaglio ragazzi. Comunque qui trovate l'altro pezzo dell'armatura, il secondo. Il punto, diciamo, più o meno in superficie dovrebbe essere più o meno questo, da queste parti qua, ok? Quindi il punto in superficie, lo vedete che là davanti a me dovrebbe essere più o meno qua, ok? Il punto in superficie, come punto di riferimento. Va bene, andiamo dall'altra parte, andiamo a prendere l'ultimo, dritto da qua, ok? Questo è facilissimo ragazzi, perché come vedete la struttura a castelletto ve la trovate praticamente davanti. Ah, ecco, non me lo ricordavo affatto, credo che basti spostare questo masso, cadere di sotto, raggiungere la parte che si trova sotto l'ascella, penso in fondo. Ah, sì, ok, non c'è neanche bisogno di usare questa abilità, però comunque comoda. e arrivate all'interno della cella, dove troverete l'ultimo forziere, come vi ho spiegato anche prima, contraddistinto da queste due fiaccole, al centro c'è il forziere. E questo era l'ultimo, allora, abbastanza facile ragazzi, e come punto di riferimento in superficie potete tenere questo qua. Per il resto, addentratevi nei cunicoli fin quando non trovate queste strutture un po' a castello. Ehm, abbastanza semplice, davvero. E per assurdo, questa armatura oltre ad essere molto bella, è anche molto utile, perché è fra quelle che hanno la difesa più alta di tutte quante. Ad ogni modo, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia stato utile, se vi è stato utile, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un commento e un like a questo video. E non dimenticate anche di dare uno sguardo ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale come questi abbonati qui, ed in particolare devo salutare Simone, Lady, Filippo, Conci, Paride, Francesca, Franci, Carlo e Grazie mille per il vostro supporto. Ciao!